Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono ancora fuori, sono in viaggio e quindi oggi facciamo questo video in versione solo screen, solo grafici, ma volevo comunque tenervi aggiornati rispetto a quello che sta succedendo sui mercati e le cripto che ancora soffrono abbastanza con un trend ribassista estremamente pronunciato sia di bitcoin ma di bitcoin. In generale anche la total market cap è scesa veramente tanto rispetto ai massimi, circa un trilione in meno, quasi un trilione in meno rispetto ai massimi storici toccati, quindi assolutamente un ribasso degno di nota. Da un punto di vista di analisi, oggi andremo a guardare quella che è l'analisi ciclica, quindi aggiornamento su bitcoin, vedremo anche il grafico di bitcoin di medio-lungo periodo per capire dove siamo posizionati, ma andremo anche a fare un attimo il punto della situazione sulla total market cap per vedere in effetti non soltanto il re delle criptovalute ma vedere anche quello che sta succedendo all'intero mercato nel suo insieme e poi iniziamo a dare un po' di indicazioni soprattutto a livello tempistico con la questione legata all'analisi ciclica di dove stiamo andando in questa settimana, settimana di Natale che poi era quella che doveva dare un minimo rilevante, insomma e quindi un chiudere questa fase di ribasso più o meno per la chiusura del ciclo mensile e poi andremo a vedere anche i livelli di supporto che devono assolutamente tenere. Va bene ragazzi, allora sarà un video breve secondo me perché dovrò fare tutto sullo screen, quindi iniziamo subito con i grafici. Vi ricordo che entro un paio di giorni, quindi il 23 di dicembre, scade la promo con il 10% di sconto, la Christmas Time promo per i corsi Trading On ragazzi, quindi affrettatevi se state pensando di formarvi e di studiare perché è un'ottima occasione approfittare di queste promo proprio perché non ne faremo ulteriori e poi a dire la verità ragazzi, tra qualche giorno c'è una sorpresa anche perché verrà lanciato anche un altro corso che vi svelerò poi nei prossimi video. Quindi basta cliccare nel link in descrizione, chi di voi vuole approfittare di questa offerta e usare questo coupon per ottenere il 10% di sconto. Allora andiamo a vedere quella che è la questione grafica per quanto riguarda Bitcoin, vedete in maniera molto chiara che purtroppo in questo caso quello che ci siamo detti nell'ultimo mese si è andato a configurare abbastanza, in maniera abbastanza lineare ragazzi, con questo ciclo mensile totalmente a ribasso, girato in pratica a ribasso nella giornata del 4 di dicembre, mese che praticamente si è andato a definire in soli 4 giorni perché da quando è iniziato in pratica il mercato ha fatto il massimo e il minimo del mese in 2-3 giorni, insomma questa cosa è veramente molto rara quindi non avviene molto spesso ragazzi, però in ogni caso questa struttura purtroppo porta un ciclo mensile che è completamente al ribasso e che tecnicamente i 30 giorni scadono il prossimo Santo Stefano, quindi il 26 di dicembre. essendo anche in concomitanza con la chiusura di un ciclo superiore molto rilevante, cioè un ciclo semestrale, quindi quasi 180 giorni, quindi almeno 180 giorni, però dal mio punto di vista Bitcoin è estremamente più lungo, fa dei cicli un po' più lunghi, quindi da qui mi viene anche il dubbio e mi terrò, già ve lo dico anticipatamente, mi terrò anche un altro mese successivo per eventualmente fare i calcoli, cioè questi 30 giorni che sarà il mensile di gennaio potrebbe essere un po' complicato anche gestirli, quindi ci aspettiamo una ripresa da questo trend di ribasso molto pronunciato, molto forte al ribasso, è il peggiore dal maggio del 2021, so che moltissimi di voi ancora magari ragionano sulla questione legata al fatto che i dati per esempio on-chain dimostrano ancora una fuoriuscita dei Bitcoin dagli exchange per essere messi nei wallet privati, quindi c'è un deflusso dagli exchange, come vanno valutati i dati on-chain? Ne parleremo di questa cosa nei prossimi video perché voglio dedicare un video esclusivamente ai dati on-chain ragazzi, perché i dati on-chain al di là di quello che indicano sono estremamente variabili nella loro interpretazione, quindi questo tipo di rappresentazione dei dati può essere fuorviante da una serie di punti di vista e certamente non hanno impatto nel breve periodo, nel medio-lungo sì, ma nel breve periodo hanno pochissimo impatto, quindi anche se da un punto di vista di exchange vediamo dei Bitcoin uscire per esempio dai volumi on-chain, adesso non ho il grafico ragazzi, ve lo mostro nel prossimo video, questo non significa che domani il mercato invertirà il trend. Per quanto riguarda la questione di breve periodo è molto più utile andare a considerare le chart, è molto più utile andare a considerare il mercato quello che fa. Attenzione ragazzi che breve periodo non significa scalping nel trading, ci tengo a fare chiarezza a questa confusione che si genera ogni volta su questo tipo di concetti, perché purtroppo c'è troppa troppa informazione fuffa in giro, quindi vi ricordo che il breve termine è da 1 a 3 mesi, quindi non è assolutamente da considerare da qui a domani, è tutto un altro discorso, quello è un trading stile scalping, che non è quello diciamo che si fa quando si analizzano questi tipi di chart da un giorno oppure il settimanale. Allora da un punto di vista di scadenza del ciclo mensile vi ho già detto che siamo in questa fase, è difficile che Bitcoin prima della chiusura di questo ciclo inizi un trend differente. Questo ciclo mensile però poi una volta chiuso ed è un ciclo ribassista e il secondo ribassista ragazzi, vedete uno è stato qui, quindi il ciclo di novembre e poi questo è il secondo ciclo ribassista. Ora, due cicli ribassisti tecnicamente ragazzi vanno bene per la chiusura di un semestrale, quindi un ciclo più grande, perciò io mi aspetto che il ciclo di gennaio possa essere comunque forte al punto tale magari da rompere le due medie mobili che sono posizionate qui, questa alla 22 e questa ad 11 periodi, io uso queste, sono medie mobili semplici, mi trovo abbastanza bene, insomma ragazzi ci sono tanti motivi per cui uso questo tipo di medie mobili, semplici e non le esponenziali, comunque anche le esponenziali se usate quelle vanno benissimo per questi tipi di calcoli, c'è poca differenza diciamo perché la precisione nell'ambito delle medie mobili e al dettaglio non è assolutamente una cosa utile nel trading, ci sarebbe da parlarne per giorni e giorni, va bene. Allora, da un punto di vista di struttura, quindi mi aspetto che il mercato nel prossimo mensile di gennaio possa andare a fare una cosa del genere, il problema poi sarà dopo la prima fase di rimbalzo, se avverrà ovviamente, perché il mercato potrebbe decidere che non è finita questa fase di bassista, quindi iniziare magari a fare un'altra cosa di questo tipo. Non mi piacerebbe vedere questo discorso qui, però è ancora possibile da un punto di vista di struttura ciclica in quanto il semestrale, ragazzi, può durare da 180 giorni anche oltre, quindi anche addirittura, come vi dicevo anche nei video precedenti, fino alla prima decada, insomma circa, di febbraio, quindi pensate un po' che cosa significa. Questo trend ribassista non è per niente bello, mi dispiace dirlo, è molto debole rispetto a quello che doveva essere, soprattutto perché in concomitanza con una prima parte dell'annuale, mi sarei aspettato un punto di arrivo intorno ai 50-48, ma non così in basso. Vediamo quando chiuderà, perché tutto sta in questa fase di chiusura, abbiamo visto infatti Bitcoin poi fare queste cose, vedete, quando iniziano cicli nuovi, o addirittura qui quando è iniziato l'annuale, vedete che cosa ci ha stampato, insomma, quindi alla fine ragazzi siamo passati da 28.000 dollari a 69.000 nell'arco di qualche mese, quindi potrebbe tranquillamente riprendere una gamba rialzista. Fermo restando ragazzi che la prossima fase di questo ciclo annuale, quindi il prossimo ciclo semestrale, sarà una fase estremamente delicata, perché il mercato è nella fase conclusiva anche del ciclo dell'Halving, dovremmo entrare in mercato orso forse, quindi proprio questo semestrale che verrà darà mille risposte e sarà oggettivamente il più complicato di tutti da tradare, ma questo ci sta ragazzi, fa parte del gioco dopo tre anni, tecnicamente sono tre anni di rialzi dei mercati del crypto. Passiamo a vedere quello che invece è il grafico sul ciclo settimanale, quindi sul, scusate, time frame settimanale, poi vediamo la total market cap che è già qui ragazzi, così la vediamo anche insieme, anche questa nel medio-lungo periodo. Allora anche la questione legata al ciclo di natura, al grafico di natura settimanale, vedete, è fortemente impostata al ribasso, ma soprattutto è arrivato a questo livello che secondo me è molto rilevante. Questa è una media A54, quindi è una media che io utilizzo per definire il trend annuale del mercato, un break di questa media gialla che vedete confermato in close settimanale importante che potrebbe fare in questa settimana che è appena iniziata, perché vedete siamo qui proprio al limite, quindi se non ce la fa questa candela potrebbe andare appunto a bucare proprio questa media dovesse fare un ribasso fino a 43 confermato in close, sarebbe una brutta cosa ragazzi, perché poi è vero che magari avremo qualche giornata di rimbalzo, però faremmo magari il famoso rimbalzo del gatto morto proprio a pullback di queste medie, quindi una cosa del genere invertirebbe il trend di medio periodo del mercato, almeno in questa prima fase, potrebbe, diciamo, dare spazio a situazioni di continuazione di questo trend ribassista che dovremmo assolutamente poi vedere, poi insomma andremo anche a vedere nei prossimi video, il prossimo anno ragazzi, come andare a coprirci magari in queste fasi, come andare a gestire le posizioni in hold di medio-lungo periodo, non quelle di lunghissimo, di dieci anni, non i piani d'accumulo ovviamente, ma quelle che sono le posizioni molto più veloci da gestire, quindi intorno a un annetto più o meno. Allora, questa è la fase, vedete che anche qui vi ho messo la durata di questo ciclo semestrale massimo, secondo me, cioè fino a qui, insomma, ma qui siamo già, secondo me, a un livello molto lungo di ciclo semestrale, perciò, secondo me, in questa zona potremmo avere tutto una fase in cui Bitcoin potrebbe fare un minimo rilevante, poi iniziare appunto questa nuova, un tentativo di recupero, che poi vedremo, insomma, potrebbe anche fare, per esempio, un 54, 55 di massimo, insomma, poi lì bisognerà capire se il mercato avrà la forza di continuare o no, quindi dovremmo stare a quel punto a vedere, insomma, i trend settimana, per settimana, c'è poco da fare. Comunque, questa è l'arco di spazio, quindi temporale, che ancora resta per la chiusura di questo ciclo semestrale. Il livello di supporto più importante, questa media, purtroppo, è troppo vicino, molto vicino, poi abbiamo questo livello qui, intorno ai 43, che deve reggere. Rotti 43 e questa shadow, insomma, è stato i 40.000, ragazzi, ce la vediamo male, perché poi si scende a 36, intorno a qui, a 37, 35, quindi questa zona qui non bene, assolutamente. Riprendere da lì, poi, nel secondo semestrale, un eventuale nuovo massimo sarà veramente molto complicato, quindi speriamo di non arrivarci. Andiamo a vedere l'ultimo grafico, che è quello della Total Market Cap, anche la Total Market Cap si poggia intorno a una media, queste sono medie differenti, ragazzi, questa è una media a 26, quella che vedete qui è un'altra cosa, quindi non la considerate, non ve la spiego oggi, è uno spostamento della stessa media, quindi niente di rilevante, ragazzi, era solo una cosa che stavo testando, quindi anzi, ve la cancello, così facciamo prima e vi metto la classica media di prima, insomma, così abbiamo maggiore visibilità. Allora, vedete come è diverso il Total Market Cap rispetto al grafico di Bitcoin sul ciclo, sulla time frame settimanale, perché vedete, il grafico di Bitcoin sul time frame settimanale è già sotto la media 52-54 settimane, invece, il Total Market Cap no, è ancora lontano, perché? Perché Bitcoin è molto più debole rispetto all'intero mercato e questo l'ha dimostrato diverse volte, quindi potremmo anche avere questo grafico come grafico di riferimento del livello di supporto che dovrebbe essere a questo punto proprio intorno alla zona di, in questo caso passa da 1.85 trillion, questo potrebbe essere in effetti anche un punto d'arrivo per questa struttura ciclica semestrale, quindi andare a confluire all'interno di questa zona qui, scusate i segni ragazzi ma c'ho la trackpad del portatile e quindi questa è ragazzi io già lo riesco col mouse allora andando a vedere anche la struttura ciclica di questo grafico ci riporta sempre alle stesse scadenze quindi ho intorno alla fine del mese di dicembre quindi in questa settimana ragazzi da fare questo minimo e poi ripartire oppure da qui in poi si potrebbe andare anche oltre proprio fino all'altro ciclo mensile che poi è quello di gennaio circa gennaio quindi fine gennaio dovesse essere ancora debole il mercato potremmo avere una cosa del genere questo per la struttura del semestrale ragazzi mentre anche qui ovviamente su un grafico settimanale il ciclo mensile non si vede benissimo quindi ha poco senso guardarlo su questo grafico potremmo avere comunque una cosa una fase di rimbalzo diciamo non si vede appunto ragazzi perché le candele sono troppo strette in questo caso potremmo avere una fase di rimbalzo su questa zona proprio in concomitanza appunto della chiusura di questo ciclo mensile e poi magari fare una cosa del genere per poi andare a chiudere questo semestrale con una cosa così se appunto gennaio non inizia questo nuovo ciclo in maniera importante oppure andare a ripartire ma quello lo vedremo allora intanto da un punto di vista operativo il ciclo che verrà quindi il prossimo mensile va comunque tradato long quindi bisogna andare long proprio perché il mercato potrebbe iniziare questo nuovo semestrale e chi lo sa potrebbe magari dare soddisfazione e portarci anche verso nuovi massimi storici in questo caso dovesse andare tutto in maniera molto bella potremmo vedere una cosa del genere questo poi sarebbero i massimi storici chiaramente perché poi andremo a chiudere l'annuale quindi i massimi storici di questa fase insomma ecco poi bisognerà vedere una fase successiva io sono sempre speranzoso però i segnali di trading i segnali del trend di mercato non sono così floridi ecco perché ecco perché ragazzi io ho tenuto a farvi anche il video lunedì nello spiegare di stare attenti a moltissimi di voi perché poi quando le cose si mettono malissimo non è facile assolutamente uscire dai mercati quindi bisogna sempre farlo prima questo tipo di ragionamento va bene allora questo è quanto per la giornata di oggi quindi siamo in attesa in questa settimana dell'ultimo sciacquone che dovrebbe andare a chiudere questo ciclo mensile che cosa può succedere nervi saldi ragazzi perché la questione non è finita i mercati sono ancora molto deboli sono deboli anche i mercati old i classici quindi Naltac S&P 500 eccetera per le questioni legate alle strette monetarie della banca centrale Federal Reserve americana in settimana penso che faremo un video vediamo anche se domani riesco a farlo direttamente sull'analisi on chain e cercheremo anche di guardare questi mercati classici proprio i mercati old per vedere che cosa stanno facendo e come sono correlati non sono correlati ma in queste fasi di ribasso ovviamente sono tutti in sinergia quindi c'è questa correlazione spuria si dice così quindi momentanea solo e unicamente in queste fasi e potrebbe essere estremamente utile andare a vedere queste cose va bene ragazzi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti